Ciao a tutti ragazzi sono DYNAMIC e oggi faremo un bel video, un bel video, un bel gameplay su Battlefield 4 beta, uscito qualche giorno fa comunque aspetta un attimo, no non l'abbiamo fatto da qui, niente vabbè comunque siamo su Battlefield 4 beta multiplayer che finisce il 15 ottobre quindi se lo volete scaricare scaricatevelo comunque niente io sono un hub e vediamo un po' comunque in questo video ringrazio il mio amico off tab cioè fratello di Rector e perché? perché da tre giorni io ho avuto problemi del cazzo con Battlefield quindi lo ringrazio che mi ha sistemato questi problemi ma che cazzo lui è mio, lui è mio amico, idiota, vabbè comunque mi ha sistemato, mi ha sistemato cioè mi ha dato una manna a sistemare questo gioco e niente e niente e iniziamo con questo e iniziamo con questo gameplay, cazzo mi sono preso uno sniper, uno sniper gratis cazzo quanto è potente, questo sì che è un'arma questo sì che è un'arma cazzo, questo sì che è un'arma cazzo, cazzo ho fatto una kill, vabbè non me ne frega a me interessa fare, giocare con, almeno mi basta uccidere guarda vieni, ai off tab sicuramente vedrai quanto sono nabbo, quanto sono nabbo, infatti, quanto sono nabbo, eccolo qui ma poffa, lo volevo incortellare, lo volevo fanculo vai vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua tenete qua fai di puttana lo so che sono nabbo, ma voi che credete che siete pro di FPS? eh, camperone te, tu camperone del cazzo muori, 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 muori fanculo ti chi sei, tu chi sei ecco un altro camperone e lì vaffanculo vai vieni qua figli di puttana guarda, io mi vado a conquistare la base io sono troppo furbo però mi figlio una bella copertura, guarda, di ferro oh, nessuno, ok ok, vaffanculo, andate tutti a fanculo, andate ok ma che cazzo, che cazzo vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare te cattura, cattura, vai cattura, cattura che cazzo ma perché dobbiamo, io non capisco perché dobbiamo fare la lotta cioè, questo è un gioco cioè, vabbè, sì, dobbiamo fare la lotta comunque, guarda che belle macchine guarda che belle auto, perché le dobbiamo distruggere ma dove cazzo sono gli avversari, io non capisco eccolo lì eccolo lì, vieni qua eccolo lì, eccolo lì mamma, mamma, cosa? eh, quel figlio di puttana non l'ho visto vieni qua, vieni qua, vieni qua vieni qua, vieni qua, vieni qua vieni qua, vieni qua pezzo di merda vai a vomitare vieni qua vieni qua, vieni qua e tu, camperone di merda, vieni sotto, vieni vediamo se te hai il coraggio di venire sotto gay intanto mi vado a fottere la tua base vieni qua, figlio di puttana venite qua vieni qua, mi sparo una bella pallottola in testa guarda vieni qua, vieni qua ci sarà una bella pallottola in testa, guarda andate verso che cazzo, che cazzo è che mira ecco, aspetta ecco, avevo visto qualcuno che mirava avevo visto qualcuno che mirava non sono riuscito a ucciderlo ma almeno Hindu almeno ho sono riuscito a sapere chi è quello lì che mi sparava c'è qualcun altro che mi sparava c'è qualcun altro che qua vuole le botte, vuole le pallottole qua eh? eh? lo volete le pallottole eh? lo so che lo volete muori fanculo vai resto qua, resto qua un po' vieni cioè vabbè comunque questo gioco si vabbè ve lo potete scaricare dal sito Origin Origin e se non sapete come fare vi faccio il tutorial basta che ve lo scrivete sotto link in descrizione e niente ah, sì, sì, giusto stiamo giocando su eh, com'è che si chiama? eh, Shanghai questa è la mappa Shanghai la mappa Shanghai la prima mappa che ci hanno fatto vedere su 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 Battlefield ma che cazzo dico vabbè la prima mappa multiplayer mai giocata eh, dai giocatori l'hanno attaccato in tre poveretto poveretto vai io ho 9 di vita ho, 9 punti di vita ho 9 punti di vita ho oh faffanculo vai comunque stavo dicendo questo è la eh Shanghai eh, skyline cioè che qua i crattacieli possono cadere per esempio quella lì, quella lì questo crattacielo qua può cadere infatti infatti se andate a rompere i piloni cioè anche cioè me l'ha detto il mio amico se andate a rompere i piloni cade poi cosa posso dirvi eh, aspetta un attimo che c'è questo figlio di puttana che si crede pro vieni qua, vieni qua vabbè a parte le cazzate e niente ve lo potete scaricare ma l'ho già già detto queste cose vabbè comunque cose da dire cose da dire cose da dire cose da dire è un gioco molto pesante quindi ci vorrà un computer molto abbastanza potente non molto abbastanza possiamo possiamo pure dire abbastanza potente perché eh perché già mi computer molto potente già a a fare questo video mi laggava ultra mi laggava e cosa posso basta cosa posso dire cosa posso dire ok ah vi levate del cazzo cazzo se stai vedendo questo video hai capito quanto qua c'è qua c'è la porta cazzo c'è la c'è la porta c'è la porta cazzo vabbè vabbè iniziamo a fare queste cazzate vabbè 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 no 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 pah ah and giusto questa è la mappa skyline versione mini perché stiamo giocando solo in 64 4, siccome a me mi piace giocare in pochi perché riesco a fare più, riesco a fare più kille, tra virgolette, però c'è più possibilità di fare kille, succhiati questo bastardo, mi so presa anche una medaglia, vai, venite qua figli di puttana, dove siete, dove siete, dove siete, cazzo siete, no, porca, porca, porca di quella puttana, salta cane, salta cane, a parte le stronzate, a parte le stronzate, venite qua, copritemi il culo, già copri, copiamoci il culo a vicenda, così, vaffanculo, l'abbiamo già, qui sta, ci sarà qualche figlio di puttana, che cazzo, pezzo di merda, nabbo, camperone, oh, stiamo vincendo, ci mancano 3 punti, 1 punto, abbiamo vinto, grazie a me abbiamo vinto naturalmente, sono sesta posizione, io sono Ludwig, vabbè, è dynamic, però questo è il mio vero nome, vabbè, comunque sono arrivato, quanto, vabbè, sono arrivato, aspetta, che cazzo ho fatto, vabbè, a parte, a parte le stronzate, vediamo i punti, si, 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 è tantissimo, per me va più che bene, due medagli ho preso, sono arrivato sesto, su 16 persone, io direi sesto, per me va più che bene, quindi, ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo alla prossima, se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, se siete nuovi, iscrivetevi, poi che ve lo posso dire, se volete farlo vedere agli altri amici, condividete, vabbè, queste sono cazzate varie, vabbè, comunque se volete vedere il tutorial su come scaricare Battlefield 4, online, multiplayer, gratis, per fino al 15 ottobre, quindi avete tempo pochissimo, quindi mettete subito il commento, cioè commento, quindi io lo faccio, e comunque ciao a tutti ragazzi, alla prossima.